Dal Pitti Moda di Firenze le piccole pillole di VIP Show, perché poi come ben sai Assia le puntate vere e proprie andranno in onda a fine agosto sui 27 emittenti italiane. Noi oggi qua al Pitti staremo in giro tutto il giorno a cercare i blogger e a ricercare le mode del momento. Secondo te, così a sentimento, chi troveremo? Ma abbiamo già visto Mariano a girarsi nei dintorni ma ancora non ci ha regalato nessuna perla questa giornata. Vediamo un po' ad andare a sera quello che succede Luca. Mi hanno detto che nello spazio Follow Us ci sarà Federica Narci, tra poco magari andiamo a intervistarla, cosa dici? Assolutamente sì, diciamo che lei è una delle icone top delle donne italiane, quindi assolutamente andiamo da Federica, vediamo lei cosa ci riserverà, cosa ci dirà per questa nuova estate anche Luca. Esatto, anche perché continueremo con la nostra domandona. A voi donne piace l'uomo con la barba incolta? Piace l'uomo con il risvoltino? Per ora, già anche dal papete, la barba sì ma risvoltino? Ancora con il risvoltino non ci siamo. Purtroppo lo usano tutti ma a quanto pare non piace a nessuno, quindi è da capire se l'abito al pitti fa il monaco oppure no. Bisogna capire questo Luca adesso. Hai assolutamente ragione, appunto chiederemo perché tutti portano questo pantalone con il risvoltino ma poi alla fine alla domanda ti piace il pantalone con il risvoltino? Nessuno risponde sì, quindi l'abito non fa il monaco ma a pitti fa sì.